Spero poter darti un po' di informazione sulla nostra famiglia. Non è che io so tanto, mio papà e il tuo nonno, che erano fratelli, sono di Santa Sofia de Piro, che è un villaggio, un piccolo paese di Cosenza. Potete filmare qui o potete ridere da questa camera? No, 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 no. Potete filmare senza dire nulla. Ok. E poi riceverte un pezzo di ucci in la tua bag. E' parte di quel l'autobus che aveva Santa Sofia de Piro. Si. Posso vedere le orari? Parte dalla borsia 9. Ah, perché anche io parlo arabo. Tu sei da Libanano? Si, da Libanano, Piroc. Io sono italiana, ma non so. Io sono in Siria. Ah. In Halep. Cosa? Cosa? Io sono in Siria. Ok. E ora sono in Santa Sofia? Io sono in Santa Sofia. Ok, ok. E tu sei baffa. Io sono baffa. Io sono baffa. Questo è un baffa. Io sono baffa. Senza volpe. Senza volpe. Senza volpe. E' una volpe. Perché qui i baffa all'inizio erano molti. E allora a un certo momento hanno aggiunto al cognome baffa un secondo cognome per distinguerli. Allora baffa Trasci, baffa Volpe, baffa Scirocco, baffa Giusa. Per distinguere. Perché arrivava una lettera baffa Francesco. Forse erano venti che si chiamavano Francesco. Quattro anni. Mi hanno fatto fortuna questi baffa all'inizio. Molti soldi. Ma io lo sapevo a tutti. Niente. Lo sapevo a tutti. Perché sapevo a tutti. Poi. No, 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 no. Niente. Ma non ce la mi sei. Ma non ce la mi sei. Voglio dire una cosa alla famiglia, alla Libera? Quale famiglia? Alla diva baffa, la mia madre. Siete di origine albanese. Non dimenticatelo mai. Si. Non italiana. Anche ma poco. Si. Però origine albanese. , oh, iota, iota! Sì, sì, sì.